Al via l'edizione di Lorica Lake, giunta al suo quarto anno nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Cosenza, è stato presentato il progetto Da 0 a 1400, che farà tappa a Lorica per tre giorni, dal 7 al 9 luglio. Rimane uno degli eventi più importanti per quanto riguarda la nostra regione, non solo, anche per quanto riguarda il centro-sud. Da 0 a 1400 è un progetto importantissimo, si parte dal mare, si arriva a Lorica con una tappa intermedia anche in piscina. È un progetto che comunque già nel passato abbiamo avuto con enorme successo, quindi la partecipazione di tanti e tanti atleti. Lega moltissimo anche sul territorio per quanto riguarda sport e turismo, che è uno di quegli obiettivi che comunque la società Acqua si era prefissata da portare avanti. Ci si aspetta tante persone, ma non solo gli atleti che parteciperanno, ma anche tutte le persone che accompagnano gli atleti, che potranno vedere le bellezze della nostra terra, la competitività della gara, anzi delle gare, e potranno poi assaggiare i nostri prodotti ed avere la possibilità di vedere lungo e largo anche la Calabria. Il turismo sportivo, noi calabresi dovremmo investire in questo turismo sportivo e dare la possibilità a tutti di venire qui, divertirsi e vedere tutto ciò che abbiamo. Abbiamo chiuso una collaborazione con Ferrovie della Calabria, dove al di là dello sport mettono a disposizione un mezzo, uno dei più antichi, che è un treno a carbone che ci accompagna dalla Sila ad arrivare a Lorica. E questo fa conoscere i nostri posti, fa conoscere delle particolarità nostre ai calabresi, che è un di più e che rende più attrattivo, al di là della gara, anche per le famiglie che avranno soggiorno in Lorica. C'è Destinazione Sila, che è a accogliere varie richieste dei partecipanti alla nostra gara, quindi si occuperà di tutta la logistica di alberghi, B&B e ristorazione. E in più quest'anno facciamo un intrattenimento dopo gara con un aperitivo lungolago per gli iscritti alla manifestazione.